Allora ragazzi salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video io sono Gat734 e quest'oggi siamo su Castle Clash nell'account di AsuXYZ2 il quale ci permette di nuovo perché se non sbaglio è già la terza volta che ci permette di rollare le sue gemme questa volta saranno 10.300 gemme alla ricerca di Rocco, Zucchessa, Peste e Addestratore di Belve per chi non sappia ancora chi è Peste, Peste è lui, questo eroe qui. Quindi cominciamo subito, allora vediamo un po' quante slot abbiamo nel magazzino come sempre, ah no 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 aspettate ho dimenticato una cosa importantissima, prima di cominciare con le rollate salutiamo subito la sua gilda se la trovo dov'è, eccola qui la sua gilda ossia Legion Trademark ed in particolare Edward quindi ciao Legion, ciao Edward, ciao a tutti quanti, ragazzi ora si va a rollare, si va a prendere veramente il bordello, cerchiamo subito di liberare qualche slot, vediamo un po', ne abbiamo un po' poche, sì però hai tanti libri che, oh mio Dio, posso vedere soltanto quanti do darebbero, non puoi, troppi do darebbero, troppi do, wow, wow, veramente tantissimi libri, tantissimi tantissimi libri, ecco possiamo utilizzare un po' di queste così da liberare le slot. Abbiamo una cartello leggendario che apriamo subito, vediamo chi troviamo, ooooh, il paladino mi pare giusto, il paladino è un classico. 5 casse miserabili, vediamo quanto miserabili sono queste casse. Beh, beh, decisamente non sono miserabili, anzi, sono tutte buone a quanto pare. Questi te li lascio, questi te li lascio, guarda, per ora queste cose qui te le lascio, così le potrai conservare e se vorrei un giorno faremo un opening assurdo. Abbiamo 23 slot ragazzi, cominciamo con le rollate, non so se ce la faremo ma mi auguro, mi auguro di trovare un sacco di leggendari, quindi cominciamo, roll da 3 e prendiamo subito la zucchessa. Un campione gelatinoso, più o meno è come la zucchessa, hanno la stesso sorriso, la stesso sorriso, soprattutto. Soprattutto in italiano, un 30 euro, attento, un 30 euro in mezzo a due giganti, questo è carino da scrinnare però dai, perché tutti e tre comunque hanno tipo il muschio intorno, carino, bello, la scrinno. Riproviamo. Beh, qui il leggendario io non l'ho visto, quindi facciamo che ora faccio due roll da 3 e mi dai qualcuno. Abbiamo un sacco di verdi ragazzi, veramente un sacco, un sacco di verdi. Ora tutti blu, ovviamente, come mi sono chiamato un paio di verdi. Eeeh, una succube, attenzione, ma non ci interessano anche lei. 30 euro, carino, ma non era richiesto. Succube, carina, da vedere almeno, ma non era richiesta. Roll da 3? Niente, cioè abbiamo fatto verde, blu, viola. Wow, veramente belle rollate, stanno uscendo belle a livello scenico, però a livello, diciamo, di utilità, ecco paladino poi, lo sappiamo, è il fantastico, il mitico paladino. Non ci sono ancora usciti eroi leggendari decenti. Forza! Ancora un roll da 3. Forza! Ah, no, 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 non puoi fare così. Ho bisogno, ho bisogno, ho bisogno, ho bisogno, ho bisogno di peste. Zucchessa. Rocco. 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 Peste. Zucchessa. No? Così, tranquillo, va bene, a me le pare. Rocco. Peste. Peste, ho detto peste. Campione gelatino, più o meno tu sei una peste, perché spunti sempre, ma non in quel senso. Carestia. Uh, paladino, carestia, è uscito paladino, cioè, come ho chiamato? Mamma mia, proprio questa te la sei cercata, il mio caro paladino. Veramente te la sei cercata. Ragazzi, ancora due roll da 3, abbiamo già finito le gemme, ma... ma... ah, cavolo, nessun leggendario, peccato. Possiamo ritirare 300 gemme, perché c'è l'evento, dove è l'evento? Ecco qui, 300 gemme, dammi qua. Grazie. Possiamo fare, volendo, un'altra rollatina, se ci dà le gemme, possiamo fare un'altra rollatina da... due altre rollatine da uno, volevo dire, speravo di fare quella da 3, ma non ci riusciamo. Ecco qua, perfetto, allora, ingaggia e vinci e 300 gemme, ok. Cioè, ingaggia e vinci 20 cose, vabbè. Apriamo anche le uova mascotte, vediamo che ci danno. Verde e blu. Buono, dai, buono. Allora, 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 ancora due rollate, ragazzi, possiamo trovare ancora due eroi leggendari, se trovo l'altare. Se... eccolo qua. Trovato. Dai, leggendario. Forza! Una linfa di cristallo. Tu sei la vera peste, non... peste. Due linfe di cristallo. Wow, siete fantastiche, veramente, veramente fantastiche le linfe di cristallo. Ragazzi, questo video giunge al termine. Abbiamo trovato un sacco di eroi leggendari, ma purtroppo nessuno di quelli che cercavamo. Peccato. Però vi sia piaciuto, vi invito a lasciare un like, un commento e soprattutto, se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al canale. Ci vediamo, come sempre, nel prossimo video. Ciao a tutti!